Ciao a tutti ragazzi ecco qui siamo nel quinto episodio di Attenta Quei Due e oggi dovremo finire la casa che è quasi completata come vedete abbiamo messo gli ultimi abbiamo completato il pavimento e poi che dovremmo fare più vale allora visto che abbiamo ah cioè prima cosa buonasera a tutti ragazzi da Yamamoto Valerio Caldo come preferite voi però da oggi in poi userò Valerio Caldo visto che piace di più non è vero è perché mi chiamate sempre mi chiamano sempre Valerio Caldo quindi preferisco Valerio Caldo giriamo comunque sì abbiamo finito il pavimento sì lo so che non vi abbiamo mostrato come cioè come mettevamo le cose però penso che a nessuno interessava quindi abbiamo preferito prima di iniziare comunque completare il il pavimento concluso il pavimento siamo pronti per nel prossimo episodio ovvero completare la casa fare la nostra stanza o no eh sì visto che aspe controlliamo il tempo è buio noi andiamo a dormire nel mentre perché dormi nel mio letto bastardo quello è il mio dove è il mio se guardi il primo episodio questo è sempre il mio solo che ti mettevi sempre tu vabbè mi sono addormentato oggi giorno ragazzi guardate perché c'è un bel sole sì bella giornata guardate dove sta il sole vedete quel coso quadrato laggiù sì c'è una bella giornata profuma di mare mettiamoci il pigiama il pigiama voglio dire il costume genonimo l'acqua è bassa qui scusate genonimo sto notando guarda ho fatto il tuffo sono uscito dal tuffo sono uscito dal tuffo sono uscito dall'acqua scusami e sono uscito dal tuffo bellissimo comunque nel frattempo che francesco finisce le sue cose cioè prende la sabbia io inizio a rompere qui almeno fare il perimetro della casa c'è la grandezza di questa nostra bella bella casetta da ingollegne perfetto bravo valerio ma tu come la fai tu non hai detto che dobbiamo farla del legno però sempre in questo stile così e tu hai detto che volevi così cioè sì è ovvio comunque non è che possiamo cambiare stile poi si nei nostri obiettivi abbiamo detto che facciamo ma anche una casa stile cinese ma lo stagli prima dobbiamo fare la stradina anche si sapore di mare dolore di fuoco diventa prendere ferro il legno si valla a prendere tu io ti faccio un attimo il perimetro se no vuoi se vado io posso andare anche io fammi fare il perimetro che già si si è meglio ti ho fatto già sbagliato grazie sei molto gentile mi vuoi un sacco bene fare il stile come l'abbiamo fatto prima ma io non lo so fare io sono una brava persona che non sa fare niente perché la fai al quadrato al quadrato ormai c'è non si porta più tu dici no non è che non si porta più cioè la fanno tutti eh cioè ecco la base va a me piace la case base che cazzo sto dicendo la case però la casa base sapore di mare non mi mettere le canzoni anche tu in testa cioè io lo faccio a te tu lo fai a me dobbiamo smetterle quando le hai fatte tu ti ricordi quella canzone la nel secondo episodio se non mi sbaglio mentre tagliavo la legna tutti si è messo a cantare la canzone che ho cantato io no mi ricordo e vatti a vedere l'episodio cioè tu non controlli i tuoi episodi ragazzi questo non controlla i suoi episodi che il regista c'è vi rendete conto quanto è sballato a sto ragazzo quando faccia schifo fai schifissimo o questa quest'albero è strano tu sei strano non è vero io non sono strano non mentire alle persone io sono gentile e audace cazzo sto dicendo non lo metti in dubbio ma sei strano non lo metti in dubbio cosa non metti in dubbio che sei gentile grazie a meno a meno qualcosa di positivo nei miei confronti grazie allora bene ragazzi bene ragazzi a proposito vale quando hai fatto cosa devo fare a mettere il qualche cosa d'agricoltura c'è qualche segno asia ovviamente abbiamo iniziato anche quello però aspetti sto portando il legno una cosa alla volta io sono uno ti ho portato ti ho portato 37 che cazzo hai fatto perché hai fatto il buco non ci entro ma io l'ho fatto sto buco qua 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 metto il vetro devo mettere perché devi mettere il vetro perché è il più bello sei un ribelle perché hai fatto anche lì una porta poi ah vuoi fare quattro porte la casa eh però di là e di qua stanno le stanche tieni 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 vomito legno ecco ci metti una vita va bene ho vomitato tutto insieme eh ma devo dire qualcosa per distrarre le persone no che cazzo sto a dire oggi 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 mi sento particolarmente pazzo allora tu sei sempre pazzo non è vero io sono gentile ma che c'entra non lo so che c'entra gentile con allora dobbiamo farlo ma io ho tutta l'armatura completa vero vero io controllami si ho tutto ho tutto completo comunque l'agricoltura facciamo questo lato lato del mare per forza perché sennò sennò prima devo prendere dobbiamo fare il secchio e prendere l'acqua no tutto quello che vuoi come tutto quello che faccio vabbè facciamo qui ho deciso vicino alla sabbia perché è simpatico la cosa no 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 non mi piace così dobbiamo prima costruire cioè te lo faccio qua sopra mettiamo l'acqua tu così poi costruisci le cose fighe che fai attorno a queste cose questo quale cose fighe faccio tutte le cose che fai sono fighe sono figo sono tanto figo con il problema dell'altezza non è vero sono basso comunque è meglio che metto prima l'acqua perché qui ogni tanto marinano le piantine e non possiamo fumarci niente niente non siamo persone illegali noi ma che si dice non lo so ho sbagliato cosa hai sbagliato a nascere no questo ho ma almeno non hai cotto il ferro bastardo non ho cotto il ferro l'ho cotto il ferro dove stai ferro lo tengo ne tengo 59 io eh dammelo devo fare il secchio dove sei? l'ho dato la metà sta dentro ah un giorno riuscirò a salire ok perfetto salito comunque ci serve questo cazzo di secchiello per mettere l'acqua salata dentro così le piante cresceranno salate già ma che si faccia? niente non lo so mi sento parecchio strano oggi perché tu sei sempre strano la panna non è cotta la panna non è cotta hai della panna? hai della panna che non è cotta? chi vuole una panna che non è cotta? giuseppe non è cotta chi è giuseppe ma? chi è giuseppe? chi è giuseppe ma? chi è giuseppe ma? mi sto un attimo.. distraendo no non sto capendo niente non sto capendo che sto facendo ma tu non capisci mai quello che fai Vai Personaggio di merda Corri Ragazzo Ciao Sono Matteo Non trovo questo mondo Vabbè Dopo questa cosa Ci vediamo nel prossimo episodio È finito qui Nel prossimo episodio Valerio Gallo sarà morto Per le sue stupidità Ah poi è morto No perché Mettiamo i semini Ragazzi guardate Ma sono un grande costruttore Guardate 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 cosa ho costruito Cioè io sono un prova Cioè ho costruito L'orto più figo del Mi dicono le cose di poco Ho costruito Ho costruito l'orto più figo del mondo Cioè ti rendi conto Vieni a vedere questo orto Ma secondo me Sono facendo una cosa più importante Guardare che cosa faccio Ti odio Anche io odiamo Grazie Non sapevo che fossi diventato anche tu Avresti cambiato sponda all'improvviso Non è che siamo Non è che sono contro quelle Cioè contro Hai detto anche tu Quindi l'hai cambiato anche tu Non è vero Io non ho ricambiato Hai detto anche tu Non è vero Menti Hai detto anche tu Va bene Va bene Sì tesoro Amore mio Va bene Sei contento e felice? Sì Ora 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 sì Sto prendendo i semi gratis Sì c'è i semi gratis Non lo so Ha tutta una ragione Ha tutta una ragione? Non lo so cosa sto dicendo E oggi mi sento Te l'ho detto Particolarmente strano Ma tu sei sempre così Non è vero Sì Vuoi domandare alla nonna? Alla nonna? Chi non? Vuoi chiedere più che altro Vuoi chiedere alla nonna? Ma quale nonna? Non lo so Hai una nonna tu? Io sì Io no È triste vero? Tipo sei in pace nonna Mui ci vorrebbe tipo Qualcanzicina triste Triste? Ah infatti la metterò Non esiste La devo mettere Ciao nonna Addio nonna Ti ho sembrato bene Allora C'è un maialino Ma comunque Penso che la sto facendo troppo grande Cosa vuoi? Penso che la sto facendo troppo grande Tu fai tutto troppo grande Comunque io ho finito Il piccolo orto Per il cibo Poi Sto maiale mi ha rotto il cazzo Uccido No non uccidere Perché? Perché sta uno qua pure Quindi facciamo L'allenamento di maiale L'allenamento di maiale Vabbè Vabbè Non lo uccido Non lo uccido Comunque dobbiamo cercare Anche Alvis Alvis I conigli Alvis Sì è un conigli Ti ripeto la domanda Ti ripeto la domanda Rispetto alla domanda Allora Allora Ho finito la base Hai finito la base Cioè tu per 10 minuti Hai costituito solo questa? Ho sbagliato Io me ne vado a dormire Perché sei proprio coglione Cioè tutto Tutto sto tempo Per costruire Tutto il casino La base Mi sono grattato Grattato di nuovo Grattato ancora Vuoi che mi grattia ancora? No No Non so capendo niente Non so capendo niente Cosa non sto capendo? Niente Ti ho detto Non sto capendo niente Vuol dire che non so capendo niente Ah ecco che è sbagliato Levati No Levati 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 Te l'ho detto Tre volte con le buone Senti film Non è vero Vedi sempre colpito Non è vero No non è vero Chi cazzo non è vero Comunque si sta facendo buio Se vuoi dormire Dobbiamo mettere delle candele Vieni 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 presto Appena ho cominciato l'impresa a zappare Scavare Salto di qualità Cacciatore di mostro Che è? Che ride a fare? Non ti letto Ma come si fa come cinquea Come farti fesso Giorno due A meno così sono Che è giorno due Non lo so Non lo fate stato Perché esistono dei giorni? Tu hai detto giorno due Io sto mettendo un po' delle torce Mettendo Anzi ora Mentre tu fai le tue cose da donna Io mi Mi faccio qualcosa di figo qua fuori Tipo candele Dove sta il mare Cioè Così è bello Guarda Tipo alle Hawaii siamo Ci vogliono delle sedie Aspetta ma andiamo a fare delle sedie Preferisci di mattoni o di pietra? Che cazzo sto dicendo? Mamma mia Commi mi piaci De Scusami Non cantare queste canzone Valeria Se no ti bannano su YouTube Farò che sto combinando Che sto combinando Ma che figo Ho messo delle sedie Ora mi siedo Aspetta Che bel paesaggio Guardate ragazzi Questo è il paesaggio di Gesù Quattro Ora sai cosa ci vogliono? Mentre Alcantos fa le sue cose da donna Ma noi continuiamo a costruire Io sto so costruendo Ma poi anche io sto costruendo Che c'è contro il Contro le cose da donna Non lo so Vuoi dire che tu sei razzista? Razzista che c'entra? Tu hai detto che sei razzista Io ho detto che sono razzista Sì Ora la rap Io non ho detto l'onin Sì invece Ah ma è da lontane Come se c'è di fare tu La casa Ah la casa La Questa specie di casa Ma io sono una persona geniale No Sì invece Ammette il mio potere No Mai Perché non mi vuoi bene Mi ho detto che non ti voglio bene Solo che non lo ammette Che Aspe Aspe Anzi questo è il È il tizio che urla sempre come una frenzola Io Io non urlo mai No Ora cosa hai fatto? Ah boh ma che c'entra? Sono dettagli Sono dettagli Mio dio Muori torcia Allora Io ho fatto qualcosa di carino credo Credo Ci vogliono solo gli ombrelloni Peccato che non esista Ora mi siede Perché hai fatto questa cosa? Perché è figo Quasi guarda il paesaggio Ma Ci passa poco Cioè Allarga Mamma mia Come si rompi palle Va bene? Ma guarda che piccolo passaggio Ok ho fatto Va bene È brutto Tu sei brutto Allargalo un po' di qua Allarga Allarga No non puoi allarga Che vuoi fare nelle crisi? La mia testa? Cosa ho fatto? La mia testa? Non sono pazzo Andiamo Mi devi fai andare avanti e dietro Perché tu sei viziata Oh ma perché Stende la cesta a me? Eh? Ognuno si faccia le proprie cesti Ah quindi tu collezioni pietra Io di là colleziono ferro Va bene Va bene così per me Che cosa stai dicendo? Non lo so Ah Ma roba Ciao Ciao Hai fatto il coso? Zitto Non venire più Zitto Non venire più Sei brutto Andipatico Ok ho fatto Vieni a vedere Che hai detto? Cosa hai fatto? Non ho capito Che stai dicendo Sei tutto stort Cosa è tutto stort Molto simmetrico Zitto Va bene così Guarda è figo Molto simmetrico Ma fai schifo Tu fai schifo Ma tu mi fai dire le crisi Guarda è figo Cosa devo fare più? Ah Non biangere Le crisi Non biangere Il mondo non è crudele come credi tu Se fai le cose storte così si Senti Ma vedi questa spada Ma vedi questa spada? Ma vedi questa spada? No Eh meglio Sì ma però dobbiamo Ma però sentiamo GGVP Ora me ne vado a morire Sott'acqua Vabbè basta Dopo quest'errore Che non ho mai fatto In tutta la mia vita Voglio morire sott'acqua Ma però l'hai fatto Ma però Vabbè volevo dire Però 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 E nemmeno aggiustate E' qua Non devo aggiustare Aggiustare Non voglio aggiustare niente Guarda Ma perché? Non ti piace Cosa? Cosa c'è che non va? Sono storto Tu sei storto Ti capi il nome Ti capi il nome Ma mi piace Almeno di un cubo No? Di 200 Ma dove? Che come guarda? Aggiustato Aggiustato Muoviti Ma che sto facendo di là? Va bene Vabbè fai di là Poi aggiustiamo Poi aggiustiamo bene Perché sennò ti ammazzo Ma dobbiamo prevenire Ma dobbiamo prevenire Già ci sono 18 minuti E perché tu devi darmi fastidio Mentre sto facendo Sto facendo Sto facendo Sto facendo Sto facendo la cosa così regolare In sangue Tu vieni Ti fai le cose più storto Tutto è sotto Senti a nessuno piace La simmetria Va bene Comunque Questa la prendo io E la metto io Ora metti le sedie Fammi vedere Dove cazzo stai andando? Fa una cosa Non so se stai pieno d'ansia Non so pieno d'ansia E che mi fai arrabbiare Non so pieno d'ansia Allora 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 Questa la fate? Sì a me Credo che mi sia arrivato Qualche messaggio Sì infatti Non mi dire di chi è Io lo so già di chi E di chi è? Mia mamma Tua mamma? Ah quindi stai dicendo Che la mia ragazza È tua mamma? Non lo sapevo Ma ora stai scherzando? Quindi le cose troppe No io prendo le cose troppe Sul serio E lei non le prende troppe Sul serio Non mi piace Anzi sì 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 Qui Non vi preoccupate Lui non se ne accorgerà Che abbiamo fatto questa cosa Intanto poi esco me l'ha accorto No non le accorci Ah qua Sì Ah bu ma Così l'hai fatto qua Così l'hai fatto qua E allora cosa cazzo vuoi? Perché sei accenso così? Non lo so non volevo farti entrare Ah Ah hai fatto le sedie bene Bravo bravo Sei una ragazza molto brava Perché sei rompendo? Eh Dammi la sedia Che vuoi? La sedia Lo scalino Lo scalino Fammi un altro attimo Che? Fammi un altro un attimo In che senso? Come in che senso? Ah devo farti un'altra scala No non l'ho fatto Boh ci sta Ah ok Comunque ragazzi Siamo arrivati 21 minuti E abbiamo registrato Parecchio Ci vediamo Comunque non abbiamo Concluso casa Cioè non abbiamo Concluso di nuovo Nessun obiettivo Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio E nel prossimo episodio Al 100% Finiremo casa Perché la base Comunque è stata creata E già stiamo costruendo Quindi sarà abbastanza facile Abbiamo fatto anche Qualcosa di carino Nel giardino Che io volevo fare Però lui No la simmetria La simmetria E comunque Ma perché? Non ti piace così? Sì mi piace Ora fammi salutare Perché io devo salutare Allora ci vediamo Nel prossimo episodio Qui da Yamamoto E speriamo di finire a casa Kantos Perché ti saluto tu? Perché tu Per me tu non termini un amico Perché Faccio fare le cose da cagli Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo nel prossimo modo Ci vediamo nel prossimo Episodio Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi